Buongiorno a tutti, a me e a tutti, perché è un messaggio importante, è un brano con un testo di Branco, seguito dalla celosia di Lani, che la traduzione dice questo, il mondo si fonda su tre dilastri, giustizia, verità e pace. Questo è il nostro saputo e di quello che auguriamo di voi, e di quello che auguriamo di voi, giustizia, verità e pace. Grazie. Fassi 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 Il rio in a vola fai la Ad soccan, ad soccan Il rio in a vola fai la Ad soccan, ad soccan Il rio in a vola fai la Ad soccan 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.